Il cibo, si sa, unisce intere generazioni. Attorno alla tavola si mangia, si dialoga, ci si confronta, si condividono esperienze e idee. A Isernia non ci si ferma unicamente al proprio nucleo familiare, ma un'intera città si riunisce a cena, grazie a Magna Storia, la tavolata da record lunga un chilometro nelle vie principali del centro storico. Penso uno degli eventi più belli della nostra città, infatti c'è sempre da ringraziare in maniera gigantesca Emilio Hitz e l'associazione Magna Storia per quello che fanno. Ed è un evento che appunto unisce tutti, perché da bravi italiani il cibo ci unisce sempre. Un'enorme festa popolare che davvero unisce tutti, le parole dell'ideatore e promotore dell'evento Emilio Hitz. Questa è l'unica, ma non perché me la sono inventata io, è l'unica occasione dove le generazioni ci sono tutte e hanno il piacere di confrontarsi. Cioè quello che accadeva una volta con i racconti dei vecchi, oggi continua ad essere, ma ci sono pure i racconti dei giovani che hanno il piacere di confrontarsi con quelli di una volta. Una piacevole serata trascorsa in compagnia fino a tarda ora, una tavolata che ha radunato migliaia di persone tutte impegnate a mangiare, bere, cantare e ballare. Abbiamo preparato un po' di tutto, pasta al forno, frittata, abbiamo un sacco di cose da mangiare, davvero tante. Abbiamo preparato qualche antipasto, pizza al pomodoro, delle frittatine e del rustico. Bellissima, mi sento veramente soddisfatta di questa, rivedo gli amici dopo tanto tempo e quindi sono contenta.